ok ciao a tutti allora oggi iniziamo questa diretta per realizzare questa borsa diciamo realizzata con il cordino svan black con il cordino svan cotto scusate xxl che è molto molto semplice diciamo partiamo da una base ovale vediamo come realizzarla e poi saliamo in altezza allora io adesso questo l'ho fatta fucsia ho preso un altro colore verde e vediamo come viene allora iniziamo e allora iniziamo lavorando 18 catenelle chiaramente se voi volete farla più grande farete più catenelle oltre a fare più giri potete fare anche più catenelle iniziali partiamo da un cappietto e lavoriamo 18 catenelle ognuna due ok quindi ho realizzato tutte le 18 catenelle ora andiamo a lavorarci intorno quindi iniziamo lavorando una maglia bassa sulla seconda catenella quindi sulla prima sulla seconda catenella lavoro la prima maglia bassa e a seguire fino alla penultima ogni catenella lavoro una maglia bassa allora sono arrivata quindi ho lavorato la maglia bassa sulla penultima adesso sull'ultima catenella ce ne dobbiamo andare a lavorare tre in questo modo una che è sempre su questa riga poi giro perché ce ne sarà una in verticale non vi preoccupate se si allarga la catenella poi la andiamo a ritirare una ritiriamo un pochino la codina si ristringe e poi giro dall'altra parte perché adesso devo andare a seguire le maglie basse sull'altro lato della catenella per cui quindi ne ho fatte due ora lavoro la terza sempre come dicevo nella stessa catenella quindi qui ne ho lavorate tre tiro un pochino e adesso vado a lavorare ogni punto che dall'altra parte ho lavorato una maglia bassa anche qui dall'altra parte lavoro sempre una maglia bassa sull'altra parte della catenella mi porto dietro la codina in modo che la nascondo quindi entro e lavoro una maglia bassa poi ancora su quella successiva vedete è semplice da trovare il punto esatto entro e lavoro una maglia bassa sono arrivata anche qui alla penultima catenella adesso sull'ultima dove ho lavorato anche questa parte la catenella maglia bassa lavoro una maglia bassa che è quella che sta dall'altra parte più un'altra che sta diciamo in verticale ok ok quindi il primo giro è terminato e così dovrebbe venirvi ok allora qui la lavorazione sarà a spirale ok mi sono dimenticata di portarmi dietro dei marca punti voi potete benissimo mettere un marca punti sul primo punto così non vi sbagliate sapete che quando termina il giro e sapete bene anche capire bene come andremo a fare gli aumenti allora praticamente adesso dovremo fare un altro giro che per allargarci per fare il fondo un giro ancora più largo ok per fare questo dobbiamo fare degli aumenti chiaramente e li faremo sulla parte finale del del fondo quindi a destra qui in fondo e a a destra qui in fondo e a sinistra qui in fondo quindi adesso andiamo a lavorare sul primo punto del giro entriamo e lavoriamo qui due maglie e basse quindi il primo aumento uno e due allora su ogni lato dovremo fare tre aumenti quindi tre aumenti da questa parte e tre da quest'altra siccome io ho iniziato qui gli altri due aumenti li farò alla fine del giro su questo punto e su questo ok quindi per se volete essere sicuri di non sbagliarvi qui mettete un marca punti così quando arrivate a questo marca punti sapete che su questo punto e quello successivo dovrete fare un aumento ok adesso oppure guardate bene i punti vedete che qui ce ne sono due quindi su quelli due prima sapete che dovete andare a fare un aumento quindi allora adesso invece vado avanti e lavoro tutte maglie basse per tutto il lato diciamo del fondo questa è l'ultima prima dell'angolo allora vedete che qui sull'angolo come dicevo prima ne abbiamo fatte tre no quindi una due e tre se avete paura di sbagliarvi quando nel giro precedente quando andate a lavorare l'ultimo l'ultima maglia mettete anche qui un marca punti quindi lavorate le altre due e mettete un marca punti quindi sulla prima e sull'ultima così sapete che nel giro successivo su queste tre maglie dovete fare gli aumenti ok vedete voi io non lo faccio perché ormai mi viene automatico però va benissimo se mettete un marca punti un segno o qualcosa per ricordarvi che quelli sono i punti dove dovete andare a fare gli aumenti allora quindi sul primo faccio due maglie basse di una e una due perfetto ok sulla successiva uguale quindi una e una due ok vado avanti sulla terza una e una due benissimo ok quindi l'angolo è fatto adesso andiamo avanti e lavoriamo ogni punto una maglia bassa fino ad arrivare al prossimo angolo ok vedete finché c'è la maglia singola dovete fare la maglia singola poi vedete che qui se avete messo il marca punti vi troverete il marca punti altrimenti comunque vedete che ci sono più maglie nello stesso punto quindi è l'angolo ok quindi adesso allora dobbiamo andare a fare gli altri due aumenti che non abbiamo fatto nel all'inizio diciamo quindi su questo punto e questo quindi lavoro una e una due ok quindi il primo aumento anzi se consideriamo questo il secondo e nel punto successivo ne andiamo a fare un altro per cui abbiamo aumentato tre punti per ogni angolo e qui terminiamo il giro perché se avete messo il marca punti qui vi troverete il marca punti e dobbiamo andare iniziare il giro successivo allora quindi allora per questo fondo io mi fermo qui perché vedete sono arrivata alla larghezza come quest'altra una borsetta piccolina perché con questa rocca si riesce a fare giusto giusto questa misura ok se invece volete utilizzare più rock quindi fare una borsa più grande potete fare più catenelle iniziali quindi più lunga ma potete anche farla più larga facendo uno o due giri di più come vi dovete regolare qui ritorna sempre il discorso la regola del cerchio vedete che sul primo giro ho fatto tre sugli angoli tre maglie basse sul giro successivo ne ho fatte sei su quei punti perché ogni maglia ne ho fatte due quindi ogni giro dovrò andare ad aumentare ogni angolo di tre maglie ok per cui però se faccio nel giro successivo due maglie basse su ogni punto ne aumento di sei non di tre allora cosa dovrò fare allora su ogni punto che c'è l'aumento diciamo qui c'è l'aumento vedete una e due sulla prima farò una maglia singola su quella successiva lavorerò un aumento quindi qui una maglia singola qui due qui una maglia singola qui due qui una maglia singola e qui due in questo modo ho aumentato sempre di tre punti ok quindi mi si allarga uniformamente senza né tirare né essere troppo lenta ok quindi la misura giusta questo sia da questa parte del fondo questo angolo che da quest'altro ok e si va avanti se ne volete a fare ancora un altro un altro giro farete due punti singoli e un aumento poi nel giro successivo tre punti singolamento quindi la regola diciamo del cerchio quello che vale per quando si fa un cerchio è la stessa cosa quando si fa per allargarsi che questo se vedete comunque è un semi cerchio è mezzo cerchio dalla parte e mezzo cerchio dall'altra spero di essere stata chiara eventualmente farò un video specifico proprio per fare il fondo e per spiegarmi ancora meglio diciamo fatemi sapere se vi è chiaro altrimenti approfondirò il discorso ok quindi andiamo avanti adesso dobbiamo andare a fare dobbiamo andare a iniziare a fare il dorso allora se vedete sulla borsa faccio vedere più a vicino qui si forma una costina come si fa a fare questa costina che è carina da vedere diciamo che segna bene il netto diciamo la parte segna di netto la parte tra il fondo e il dorso no allora dobbiamo fare semplicemente questo lavoro dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse lavorate in costa dietro come si fa allora si entra nella maglia invece di entrare prendendo tutte e due le asoline ne prendo solamente una quella dietro entro e lavoro la maglia bassa qui non dovrò fare più aumenti e se vi serve mettete il marca punti qui in questo punto così sapete questo l'inizio del giro e lavorate tutto il giro queste maglie basse lavorate in costa dietro quindi entro nella solina quella dietro e lavoro la maglia in questo modo vedete che si crea questa bella costina ok quindi andate avanti tutto il giro in questo modo ok siamo quasi vedete vi se non avete messo il marca punti comunque vi accorgete quando arrivate perché c'è questa costina quindi è chiaro che dovrò arrivare fino a questo punto ecco ecco qua e sono arrivata adesso dovrò fare diciamo tutti i giri per arrivare fino a questa altezza e questi giri dovrò semplicemente lavorarli normali farò tutte maglie basse normali quindi su questo primo punto vado a prendere tutte e due le soline del punto sottostante di base e lavoro una maglia bassa normale poi se volete fare punti diversi insomma potete sbizzarrirvi come volete è bello anche magari farlo con il punto maglia ecco come come più vi piace diciamo ok quindi vado avanti adesso vi dico quanti quanti righe dobbiamo fare quanti giri quindi io ho fatto questo è il primo quello a costa poi quindi questo 1 più 1 2 3 4 5 6 7 8 giri quindi un totale di 9 giri quindi 1 quello in costa già fatto più altri 8 allora io mi sono avvantaggiata ho preso dei marca punti per segnare dove andare a mettere diciamo dove fare le catenelle per poi creare manici allora praticamente ho realizzato ho contato 7 maglie dalla fine del giro insomma del nono giro che ho fatto del dorso e ho messo il marca punti sulla settima ok perché queste poi dovrò saltare 7 catenelle 7 maglie di base scusate e sopra lavorarci 7 catenelle poi riprenderò dove ho il marca punti e lavorerò 14 maglie basse fino al marca punti di nuovo salterò 7 maglie di base lavorando 7 catenelle e concludo lavorando le ultime 7 maglie basse allora questo è lo schema diciamo per creare i manici per questa borsetta piccolina con questo filato se voi volete farla con una misura più grande con un filato diverso insomma non viene uguale con lo stesso numero di maglie dovete semplicemente piegare a metà la borsa in questo modo e vedere dove diciamo centrare un pochino con dei marca punti e cercare di mettere stesse maglie da una parte stesse maglie all'altra chiaramente anche lo stesso numero di maglie dove ci sarà il vuoto quindi dovete un attimino fare due conti e ve lo sistemate insomma un po' come a seconda del lavoro sotto mano ok adesso andiamo quindi avanti e vediamo come terminare allora quindi come dicevo adesso vado a lavorare le 7 maglie basse qui posso togliere il marca punti adesso e ci vado a lavorare l'ultima maglia bassa ok adesso a questo punto lavoriamo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 ok e mi vado ad agganciare dove ho il marca punti quindi questo lo posso sganciare e lavoro qui la maglia bassa ecco qua poi nel giro successivo lo andremo a ricoprire adesso quindi lavoro le altre 14 14 maglie basse quindi una più tutte le altre allora quindi siamo quasi arrivati adesso faccio questo punto tolgo il marca punti lavoro l'ultimo punto dei 14 che ho fatto e vado a fare come dall'altra parte 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 ok adesso tolgo anche qui il marca punti e ci vado a lavorare la maglia perché ho saltato 7 maglie di base lavorando 7 catenelle e completo la riga lavorando tutte le altre devo arrivare adesso anche se il giro si conclude in questo punto più o meno se avete il marca punti lo vedete arrivo comunque dall'altra parte inizio di nuovo un nuovo giro perché devo andare comunque a completare tutto il bordo tutto l'ultimo giro per coprire le catenelle quindi lavoro 1 2 ok bene ho lavorato tutte 14 adesso vado a coprire il manico lavorando al 9 maglie basse quindi 2 di più rispetto alle catenelle 1 2 ok adesso vado avanti e completo il giro con le maglie basse adesso vado a lavorare anche qui le 9 maglie basse 2 ok quindi ho realizzato il manico anche da questa parte così come dall'altra bene allora allora adesso sfilo il gappietto tutto quanto ok mi aiuto con possiamo fare anche con questo però preferisco utilizzare un incinetto più piccolo che faccio meno fatica e faccio in questo modo allora vedete qui abbiamo dopo l'archetto le mie due maglie basse allora non entro sulla solina della prima ma dalla seconda e da dietro in questo modo vedete così adesso prendo il filo e lo porto dietro ok adesso entro da dietro sul in mezzo diciamo alle asoline quindi prendendo quella dietro in poche parole dell'ultima maglia bassa lavorata sull'archetto ok quindi questa ok e prendo il filo e me lo porto e me lo porto fuori dietro ok così vado a chiudere e non si vede nulla ok ok e poi semplicemente dentro giro il lavoro un pochino scomodo adesso qui ma vi faccio vedere andiamo semplicemente a nascondere il filo tra le soline dietro insomma quindi me lo porto sotto un po' di pazienza se avete un ago abbastanza grande potete anche passare ma è difficile trovarlo per il cordino questo abbastanza grande e spesso allora quindi faccio passare con l'uncinetto prendete un uncinetto più piccolo che fate fate meglio di tutti questo è un 4 un 5 adesso non vi ricordo comunque vedete voi come vi ci trovate meglio fate passare bene avvertutto insomma fate più giri fate fare più passaggi fate fare più terrà bene il lavoro quindi adesso senza che vi faccio vedere tutto quanto magari preferisco farne diversi in modo che sono sicuro e che tranquillo ma voi il procedimento l'avete capito una volta che l'avete nascosto bene tagliate a filo e la borsa è fatta ed ecco qua ok questo progetto è terminato grazie ancora per essere stati qui e ci vediamo alla prossima ciao a tutti